momenti d'artista un programma di giuliano gurriere grazie a tutti e salve il nostro ospite Giuseppe Mancini curatore della mostra di Giovanni Paolo Bedini è una mostra molto importante, molto interessante vorrei un po' capire chi era Bedini cosa ha rappresentato, in che epoca lui ha operato e le difficoltà che ci sono state perché se lui era dell'Ottocento, in quel periodo che c'è stato per l'Italia un momento veramente molto difficile e tumultuoso Giovanni Paolo Bedini è stato un pittore geniale si è formato all'Accademia di Belle Arti di Bologna quindi anche per questo abbiamo deciso di organizzare la mostra nella sua città natale quindi la quindicesima mostra monografica su un artista bolognese Bedini è stato un accademico per quasi tutta la sua vita quindi oltre le difficoltà del tempo quali le guerre di indipendenza l'unità d'Italia quindi questo periodo alquanto difficile di tutta la penisola italiana ma soprattutto dell'ambiente bolognese ha saputo dimostrare tutta la sua forza tutta la sua serenità perché viene ricordato come un uomo gioviale sereno, amabile e disponibile con tutti quindi la peculiarità della sua arte quindi a parte il primo periodo quindi di formazione accademica viene sottolineata da queste figure così spensierate da qui il fascino della spensieratezza del titolo e appunto queste figure così dipinte raffinatamente questo cromatismo così ricercato e indovinato queste figure comunque descritte in una quotidiana intimità che fanno da contrappeso al periodo difficile di quella bologna dell'epoca del secondo ottocento ma che poi durante il primo novecento darà altre dimostrazioni di un affrontare altre sperimentazioni quindi altri generi pittorici confermando il suo essere un pittore a 360 gradi Ho notato che, come chiedevo anche prima ci sono degli oli veramente interessanti e anche degli acquarelli questa sua capacità di esprimersi sia con l'olio che con l'acquarello ma ad altissimo livello era una sua caratteristica era una difficoltà oggettiva è stata una scelta anche una scelta economica penso molte volte Beh, sicuramente la produzione di acquarelli ha aiutato molto l'artista nella prima parte della sua carriera perché l'acquarello avendo la possibilità di riprodurlo in molte serie, in molte versioni quindi con una durata di tempo minima ha portato il pittore ad avere dei fondi quindi del denaro per proseguire la sua produzione ovviamente la particolarità dell'artista è la destrezza tecnica che possiede sia nell'acquarello che negli oli Lui nella sua carriera, se vogliamo ho visto che ha partecipato a molti premi oltre che è stato accademico dell'Accademia di Bologna insomma, un po' questa sua vita artistica La vita artistica di Bedini è stata piena di eventi e di successi innanzitutto l'Accademia dal 62 al 67 quindi appena iscrittosi vince numerosi premi da decorazione, figura, prospettiva nel 1865 diventa professore della stessa Accademia successivamente ma anche fonda la scuola professionale per arti decorative di Bologna fonda l'associazione per le arti Francesco Francia partecipa a numerose mostre a numerosi eventi artistici quali le esposizioni di Brera le esposizioni dell'associazione degli artisti italiani di Firenze quindi un pittore che ha saputo emergere non solo nell'ambito locale ma anche nell'ambito fiorentino milanese quindi in tutta la penisola italiana soprattutto quello che vorrei sottolineare è che Bedini nella sua produzione è stato molto più conosciuto all'estero infatti molti dei suoi acquarelli hanno circolato all'estero in Germania, in Inghilterra, in Francia quindi l'obiettivo della mostra sia mio che del presidente Borsari è stato quello di far riscoprire questo artista conosciuto così tanto all'estero poco conosciuto in Italia e quindi organizzare questa mostra per far riscoprire un artista bolognese a casa sua questo è molto importante infatti quello che dicevo prima al dottor Borsari era proprio la vostra capacità di scoprire questi artisti allora anche Bedini come altri artisti nostri sono più conosciuti quasi all'estero che addirittura è questo l'impiango da bolognese che da noi bolognesi è una caratteristica italiana oppure? non vorrei essere polemico anch'io però ovviamente non si sa quello che ha fin quando non lo si riscopre quindi ripeto l'obiettivo è quello di far riscoprire questo peccato italiano questo magari peccato bolognese di non conoscere questi artisti così tanto affermati all'epoca e allo stesso tempo così poco conosciuti in Italia è Bedini nella prova lampante ma questo è importante è quello che ovviamente io sottolineo tutte le volte che mi affassina se mi passi il termine che riuscite veramente mettere in sena degli artisti che non solo sono un po' dimenticati ma quando li vai a vedere non riesci a capire il perché è forse anche un difetto di comunicazione penso principale può essere sì ma innanzitutto io sottolineerei la difficoltà della ricerca quindi noi abbiamo organizzato una mostra su un pittore la cui reperibilità non è stata così facile attuare quindi eravamo partiti da un progetto dicevano in molti non riuscirete a trovare più di 30-40 opere come ha detto giustamente il presidente ma siamo arrivati a organizzare una mostra con tanta fatica tanta passione e siamo arrivati ad avere più di 70 opere non solo di Bedini ma sottolineerei sempre l'impegno dell'associazione di creare un percorso espositivo che coinvolge anche altri artisti da varie parti d'Italia infatti abbiamo un Boldini che è un caposcuola molto importante un Induno dalla Lombardia ma anche un Muzzioli da Modena quindi l'ambiente quasi più vicino a Bedini ma anche un Sorbi quindi dalla Toscana abbiamo cercato di dare un quadro completo del secondo ottocento quindi per dare una differente interpretazione di altri artisti e creare questo connubio speciale sia tra Bedini e gli altri artisti italiani e questo è molto importante perché avere un confronto con altri artisti stimola insomma sia il visitatore che anche voi come critici perché potete anche oserei dire divertirvi fra virgolette poter vedere le differenze e capire comunque è un l'ultima domanda è un Bedini che rispecchia la sua epoca da un punto di vista se vogliamo ha detto spensierato in un momento di grande tragedia se vogliamo c'era grande difficoltà l'Italia si stava unita c'era tutte le state le guerre di Bedini cioè c'era tutto un problema molto cruente se vogliamo e lui è riuscito a creare questo momento di di spensieratezza no? come possiamo definire Bedini e loro oltre che è bella questa domanda è bella domanda difficile io mi limito a dire che Bedini è stato un pittore come ho detto già prima completo perché non solo è riuscito a dare uno spaccato di vita quotidiana attraverso una rappresentazione di questi interni borghesi sul filone del gusto neurococò quindi basandosi su un ambiente settecentesco quindi sfarzoso ampiamente decorato riccamente decorato da questi colori sgargianti questo cromatismo importantissimo ma la peculiarità della sua pittura soprattutto nella parte inerente all'interno i borghesi è questa spensieratezza queste figure così allegre appunto in contrapposizione col periodo difficile che stava attraversando la penisola italiana quindi appunto il fascino della spensieratezza è quello che caratterizza tutte le figure del Bedini che vengono condizionate se vogliamo dal suo carattere dal suo essere così sereno disponibile con tutto allora guardando i suoi quadri sono quadri più oserei dire quelli del settecento come viene detto che quadri dell'ottocento se vogliamo e c'è una ragione particolare che lui ama questo mondo del suo passato perché il settecento beh sì è stato un periodo molto importante quindi questo voler far riemergere questo periodo precedente a questo periodo così tanto travagliato difficile cruento fatto composto di battaglie di sangue anche di spirito valoroso ma comunque questo queste vesti così pompose così queste decorazioni questi tessuti così quasi ricamati a mano della sua pittura lo fanno emergere come un pittore davvero incredibile particolare carissimo particolare direi la ringrazio e tante belle cose grazie mille momenti d'artista un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta Vincenzo Capelli Ciao Radio AIC Bologna e Art Journal